Qualcuno disse se dipendesse da me renderei contagiosa alla salute invece della malattia e noi in questa puntata di fuori tempo proprio alla salute dedichiamo ampio spazio bentornati in fuori tempo vogliamo sottolineare anche un'altra cosa che ci fa bene il caffè ma non un caffè qualsiasi soltanto quello di paolo pugni gustiamolo insieme buongiorno e buon caffè e non c'è niente da fare ci sono delle persone che proprio non reggi che proprio trovi completamente lontane completamente opposte a quelli che sono i tuoi pensieri a quelli che sono i tuoi valori lo vedi da come si comportano da quello che scrivono da quello che dicono e ti viene dentro una rabbia tale che capisci che c'è qualcosa che non funziona perché quando ti prende la rabbia contro le persone vuol dire che stai sbagliando qualcosa c'è un elemento un fattore una virgola qualcosa che non sta funzionando ed è il momento di fermarsi a ragionare fermarsi per calmarsi fermarsi per far uscire dalla valvola di massima la pressione di troppo e ritornare ad essere umano sì dico proprio umano perché l'unico modo per essere umano è quello di capire cercare di capire e rispettare le persone come dico sempre non le idee le persone ma le persone rispettarle e provare a partire da quel suggerimento di santa teresina che va bene per tutti anche per coloro che non credono se vuoi imparare ad amare realmente parti proprio da coloro che ti stanno più sull'anima da coloro che ti danno più fastidio da coloro per i quali provi maggiore diffidenza maggiore lontananza maggiore aggressività perché è solo se impari ad amare loro che allora impari ad amare tutti e allora per imparare cosa fai fai quello che fa qualunque sportivo ti alleni prendi proprio le persone più sgradevoli e comincia a trattarle bene con il massimo della simpatia con il massimo dell'affetto con il massimo dell'amore si fa fatica da matti si fa una fatica bestiale ma se alla fine quello che conta per noi è veramente capire che cosa sia l'amore e imparare a viverlo e provare quindi quella felicità immensa che si ha nel dare amore e non soltanto nel riceverlo beh allora mettiamoci subito di corsa a farlo buongiorno e buon caffè e in fuoritempo salute diamo anche tanto spazio ai rimedi naturali e per questo che ci siamo spostati ancora una volta nella parafarmacia frate erborista e abbiamo incontrato il dottor raniero in pagliatelli ascoltiamo torniamo nella parafarmacia frate erborista dei frati cappuccini di san giovanni rotondo io come sempre ho qui pronto ad aspettarmi il nostro farmacista di fiducia raniero salve buongiorno ciao ben trovato insomma tanti problemi però noi abbiamo trovato la soluzione a questi problemi soluzione molto molto naturale ovviamente i tuoi consigli poi sono ottimi e quindi insomma mettetevi comodi perché anche oggi c'è da scoprire qualcosa di nuovo certo beh ho bisogno un po' di depurarlo questo organismo è un periodo stressante sotto questo punto di vista perché si mangia un po' tanto e male diciamo non soltanto durante il periodo delle feste ma anche tutti i giorni dell'anno facciamo questa sorta di auto come si dice auto un esame di coscienza bravo anche a questo serve il nostro farmacista ecco allora veniamo a noi quali sono i prodotti che oggi ci illustri allora oggi abbiamo vi parlerò delle compresse a base di carciofo e tarassaco il tarassaco è una pianta nota fin dall'antichità e nota per le sue proprietà benefiche soprattutto a livello del fegato una pianta che ha un'ottima azione coleretica quindi di stimolazione della secrezione di acidi biliari e quindi di riduzione del riassorbimento del colesterolo in eccesso sotto questo punto di vista quindi ha delle proprietà depurative fantastiche non è priva di effetti collaterali perché stimola l'attività pancreatica quindi la simulazione dell'attività pancreatica porta ad un aumento di succo pancreatico acido che serve normalmente per la digestione a livello dell'intestino tenue degli alimenti a livello dell'intestino tenue e questo ne sconsiglia l'utilizzo in persone che soffrono di acidità gastrica in tutte quelle condizioni situazioni di patologie infiammatorie a livello dell'apparato gastrodigerente perfetto arriviamo subito alle dosi si allora si fanno due compresse dopo i pasti quindi a stomaco pieno pieno ma pieno buono sottolineiamo questa cosa ok per curiosità ci piacciono molto le curiosità che ci racconti nella prima nel nostro primo incontro ci hai raccontato qualcosa forse su questo non c'è nulla sul tarassaco è tranquillo è tranquillo come prodotto ma vedo che ne hai un altro forse è l'alternativa ed è un flacone sempre per lo stesso motivo che non può deglutire per chi non può deglutire può tranquillamente utilizzare un composto liquido in questo caso l'articoche che a base di carciofo qui il tarassaco non c'è però c'è il carciofo in associazione a menta piperita che è un ottimo carminativo quindi serve ad eliminare i gas intestinali che si formano durante i processi fermentativi dovuti appunto al processo di digestione ed ha un'ottima proprietà coleretica anche la menta questo come va assunto sono 40 ml giornalieri quindi due misurini da 20 ml da assumere a digiuno non è necessario diluirli in acqua questi due misurini se il gusto non piace si può diluire l'importante è rispettare il dosaggio dei 40 ml mi autocorrego detto non può deglutire ma anche chi ha difficoltà insomma perché se mangia e ha bisogno di questo vuol dire che può deglutire diciamolo quindi chi preferisce questo liquido semplicemente preferisce formule liquide a quelle solide può tranquillamente prendere questo tipo di prodotto come patodepurativo non esistono siringhe per l'integratorismo è una curiosità mia va bene e ci ritroviamo nella prossima puntata va bene grazie intanto grazie mille e torneremo dal dottor impagliatelli anche nella prossima puntata di fuoritempo dedicata alla salute anche la pelle risente del freddo ma ci sono dei rimedi ottimi ovviamente sempre naturali per questo abbiamo incontrato anche questa volta la nostra amica che ci darà consigli utili ed eccola pronta ciao rossella ciao no maria ciao a tutti oggi vi parlerò dell'olio essenziale di achillea l'achillea diciamo che nel nel periodo invernale il nostro viso il nostro corpo è continuamente attaccato dagli sbalzi di temperatura l'aria calda all'interno delle nostre case l'aria fredda all'esterno provocano delle antipatiche macchie rosse sul viso la cosiddetta cupe rose ea livello delle mani delle gambe assumono un colore blu astro molto anche antiestetico anche sì soprattutto antiestetico anna maria cosa si può fare sì tra i rimedi naturali vi propongo appunto l'olio essenziale di achillea possiamo aggiungere in 50 ml di olio di jojoba 20 gocce di olio essenziale di achillea da massaggiare sul sul viso tutti i giorni e anche sul corpo perché l'achillea ha delle proprietà astringenti anti infiammatorie e poi è ricca di cumarine e quindi ci aiutano a fluidificare la microcircolazione periferica ovviamente questo possono utilizzarlo sia le donne che gli uomini perché certo certo per uomini e donne anche gli uomini hanno problemi all'amico circolazione perfetto ci rivediamo la prossima puntata certo grazie a vederci grazie a voi ridere è una medicina a buon mercato quindi appena possibile ridete anzi ridiamo e lo facciamo con il nostro amico barese mimmo soloperto ci sono in macchina ci sta un papà la mamma due bambini e la suocera stanno facendo un viaggio a un certo punto di questo viaggio ci sta un incidente dopo questo ci sta questo incidente un po la macchina si rovina si rompe tutto il resto vanno all'ospedale come arriva all'ospedale il papà viene li mettono un sacco di cerotti in faccia gli cucciano la bocca perché si era rotta la mandibla e tutto il resto a un certo punto dopo un po arriva il dottore di dice senta allora come si sente come è un certo punto questo signore dice dottore dottore ma mia moglie come sta mia moglie dice no no non si preoccupi sua moglie sta bene tutto apposta non si è fatta nulla grazie grazie e mia figlia mia figlia come sta mia figlia no 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 tutto bene sua figlia non si è fatta niente per fortuna dottore dottore ma mio figlio come sta suo figlio non si è fatto niente non si è fatto niente però le devo dare una brutta notizia e sua suocera ha avuto la peggio ha avuto dottore che è successo che è successo e ma sua suocera è morta dottore non state cittano facendo ridere se non si aprono le punte ok